lol che kill ecco come hai fatto il tastino sul mouse no scusami io ho piazzato il disinescatore lol 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 guarda guarda ha cercato di affrontellarmi andiamo di qua io flash e tu mi copri da dietro ok ho uscito ho operato no non rubarmi da qui grazie devi ucciderlo tu ricarico un operatore alleato rimasto no 1v3 don't die kit no no non Alla prossima Puttica Ricarico Quanta Sei in una zona controllata dal nemico Lasciala subito Ei, Switches Opa, tu reis 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 Ah 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 complimenti, è la battuta più... complimenti Non è? Ah ok, eh beh tu l'hai scritto, va bene Allora va bene La squadra d'attacco ha trovato la bomba, proteggete la mia Io so I ragni un colpo sentiamo Io ho preso 40 giganti